sì ciao a tutti come non detto vi avevo invitato di stare a casa e io ho pensato bene di uscire qui davanti a casa mia per fare un po di attività in un parco che è attrezzato con delle strutture delle impalcature non sapendo che non si potesse andare indipendentemente da quanti eravamo le distanze erano eravamo in due o tre le distanze quattro anzi erano ampie però indipendentemente da questo non si possono utilizzare è vietato utilizzare appunto le strutture del parco io consapevole di questo sono stato pizzicato dai carabinieri che puntualmente giustamente anche professionalmente hanno preso nota da un lato mi è dispiaciuto da un lato però devo fare i complimenti e chiedere scusa alle forze dell'ordine in particolar modo i carabinieri qui di Rimini non era mia mia intenzione di non rispettare le regole e comunque complimenti perché stanno dimostrando veramente di essere sì fermi ma anche di avere tatto e professionalità scusate ancora ciao